Sale alle stelle la tensione qui a Costa Morena, il porto commerciale di Brindisi, i laboratori della Sir stanno protestando, oggi sono saliti anche sul nastro trasportatore a dimostrazione del fatto che davvero non c'è più volontà di aspettare. Il porto di Brindisi è bloccato ormai da una settimana perché non si riesce a trovare una soluzione a questa avvertenza che riguarda più di 70 operai ex laboratori ormai della Sir su cui non si riesce a trovare una mediazione in riferimento al loro futuro. E allora vanno a buca anche gli incontri che si svolgono presso la task force sul lavoro a Bari, non producono effetti gli incontri che si svolgono presso Confindustria e a questo punto probabilmente è il momento di intervenire anche a livello istituzionale perché la città di Brindisi non può permettersi di non dare un futuro a questi laboratori e allo stesso tempo non può permettersi di tenere un porto commerciale bloccato con tutti i danni che si possono facilmente immaginare. Il mancato accordo ieri sera che era un passo dall'essere realizzato ma l'arrivo della provocazione da parte della Sir che afferma che i nomi li scelgo io mentre qui c'è una platea storica comunque di gente che ci lavora da decine e decine di anni ha fatto traboccare il vaso e quindi la rabbia di questa mattina è nata da lì. La Regione, il Presidente Leo Caroli ci ha assicurato che ci sarà un ulteriore momento di confronto per tentare di ricomporre il problema con una proposta. 4-5 li può indicare la ditta ma il resto deve essere legato all'anzianità e anche all'esodo incentivato. Quindi un risultato che era acquisito sembrava che l'incontro fosse finito invece non lo era finito per niente. Il problema va ben oltre la Sir nella città di Brindisi? Il problema della Sir è la punta di un iceberg, di un problema che denunciamo da anni che è quello della decarbonizzazione. Quindi dovevamo già avere i programmi pronti dell'Enel che erano stati favoriti appunto da una discussione governativa e quant'altro che non arrivano. Anzi le poche cose che dovevano arrivare sono andate via per altre città. Noi vogliamo partire soprattutto dal fatto di pulire, di smontare la centrale.